Maurizio Venturoli, Caterina Tognoli, un'altra 458 special, ma sono tutte qui i 458, ce le hanno portate tutte in Sicilia praticamente. E ancora Michele Sarullo e Emanuele Aceroni, un'altra 458 special. Stefan Saint-Tang, Marissa Saint-Tang, un'altra 458 special, questa aperta. Nelly, tu che eri abituato alle Ferrari di una volta, a vederti queste.